La chiesa del Santissimo Salvatore a Biancaville è più che mai un cantiere aperto. Non bastassero i lavori per la costruzione del nuovo edificio religioso che sorgerà a quello già esistente. Ieri sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la ristrutturazione della casa canonica che si trova al primo piano dell'attuale edificio religioso. Lavori che dureranno 450 giorni, dunque un anno e tre mesi, che alla fine daranno un nuovo look alla casa canonica. Lavori questi che andranno di pari passo con quelli della nuova chiesa ma scorporati sotto l'aspetto economico. Perché se come è noto i fondi della nuova chiesa provengono per buona parte dalla CEI, per la precisione il 75% del costo totale di 1.380.000 euro, con il restante 25% a carico dell'amministrazione comunale di Biancavilla, quelli per la nuova canonica provengono dalle offerte dell'8 per mille. Il costo totale sarà di circa 160.000 euro. La progettazione architettonica della nuova canonica è a cura dell'ingegnere Maurizio Erbicella, che è anche il progettista del nuovo edificio religioso. La ristrutturazione della nuova canonica prevede una stanza cucina, un bagno, uno studio canonico e anche un ascensore. Insomma, sarà la nuova casa del parroco della chiesa del Santissimo Salvatore, che attualmente è retta da padre Salvatore Verzi. I lavori della canonica non inficeranno minimamente sull'attuale chiesa, che resterà dunque pienamente a disposizione dei fedeli per le messe e le attività parrocchiali. Intanto procedono a ritmo spedito i lavori del nuovo edificio religioso. Come si può vedere da queste immagini registrate questa mattina dal nostro cameraman, salvo Dio lo sa, gli operai della ditta stanno lavorando lacramente. Un terzo dei lavori è stato già ultimato. Il perimetro della nuova chiesa è già ben evidente. Tre lati sono completi anche se non in altezza. E i setti perimetrali procedono a ritmo spedito. Unico ostacolo, un cavo elettrico. Da agosto la ditta che si sta occupando della costruzione della nuova chiesa chiede all'Enel di rimuovere un cavo, ma fino ad oggi nessun operaio dell'Enel si è fatto vivo. Dunque si spera che questo cavo elettrico possa essere rimosso quanto prima per non rallentare i lavori. Lavori che, ricordiamo, sono iniziati a giugno dopo la posa della prima pietra del 28 aprile e che dovrebbero concludersi nel giro di due anni.